jingle bell jingle bell ben ritrovati su review vado ad effettuare insieme a voi una recensione di questo bellissimo albero di natale 169 euro è questo il prezzo ci ho messo un po a determinare quale albero acquistare perché su amo non ce ne sono veramente tanti ma un po il problema di questi alberi è che a noi come posso dire sono poco folti e quindi hanno questo problema e in passato anche avuto un po questo non dico trauma questa insoddisfazione dal fatto che gli alberi di natale che si acquistavano erano spesso con pochi rametti quindi degli alberi di natale un po così spennacchiati se mi concedete il termine quindi quest'anno dopo un'attenta ricerca optato per questo albero di natale 2 metri 40 e l'altezza dal link in descrizione che vi lascio qui sotto di amazon trovate però anche quello da 2 10 da 180 e da 270 perché avesse un soffitto così alto io comunque con il soffitto che mi ritrovo sono riuscito a starci giusto al pelo ci saranno 10 centimetri dalla stella che sta da puntare a forma di stella e devo dire che fa la sua figura è imponente che è venuto a trovarmi si è fatto delle foto a fianco perché veramente alto ed è piaciuto quindi sono contento vi lascio tra l'altro in descrizione anche qualora fosse interessati i link dei altri prodotti per il quale ho allestito l'albero quindi vabbè il tappeto bianco veramente carino dove mettere i regali poi anche queste fantastiche decorazioni a forma di fiocco di neve le palle di natale e anche le illuminazioni che ho acquistato tutto su amazon vi lascio quindi il link in descrizione come anche il punto alla forma di stella che veramente carino allora i rami devo dire che sono ovviamente modellabili aprite di bene come vedete sono di ferro verde quindi come vi dicevo prima hanno delle lunghezze sono forti in maniera differente e rendono quindi l'effetto di un vero albero di natale devo dire che il la parte in alto dove c'è poi il dove si posiziona il puntale non è così rigida ovvero il mio punto alla forma di stella non era proprio leggero quindi posto sopra il la punta finale dell'albero tendeva a cadere ho dovuto mettere non so se si vede troppo bene vado a zoomare ecco ho messo praticamente un pezzo di tubo di acciaio vuoto dove ho posizionato poi la mia stella il mio puntale così da inserire poi all'interno della spirale della stella il rametto dell'albero e così a avere un sostegno per posizionare poi la stella al di sopra perché sennò cadeva faceva così praticamente quindi questa è un po la dinamica quindi tutto il resto positivo devo dire che il pacco pesa quasi 20 30 kg e di cartone potete rimetterlo dentro e per montarlo ci ho messo all'incirca due ore questi sono le gambe molto stabile con un gancetto un ferro praticamente i rami hanno tutti un colore una lettera e quindi dovete per prima cosa separare i pezzi un po come quando si monta all'ikea un mobile separati i pezzi e poi iniziate a montare quindi una volta aperto lo scatolone separate tutti i rami con il colore e la lettera una volta che l'avete separati posizionerete partendo ovviamente dall'alto tutti i rami su questa parte di tubo ci sarà un tubo di acciaio ogni ramo viene agganciato sulla parte del piedistallo sulla parte tubolare con un sistema di aggancio così quindi agganciate il primo bastone agganciate poi il secondo a girare e così via quindi questo è il modo di effettivamente andare a montare l'albero non è quel classico albero che aprite ed è fatto dovete avere un po di pazienza ma ci sta secondo me fa parte anche dello spirito natalizio il fatto di montare l'albero abbellirlo fatelo magari in compagnia che ancora meglio vi vado a leggere giusto due specifiche allora questo è di 240 come vi dicevo come vi dicevo scusate 140 cm la base e abbiamo poi 1798 rami così viene detto io non sono stato via contare quindi perdonatevi se magari non è così però fidiamoci il sistema è ad aggancio come vi dicevo e guardate voi giudicate voi una volta che vengono aperti tutti i rami è veramente folto e fa la sua figura visto da lontano sembra quasi un albero vero valutate un attimo voi la lunghezza dell'albero che più vi piace ma devo dire che la combinazione di questo tappeto bianco e delle decorazioni della stella si addicono per quanto riguarda la mia sala quindi fa veramente una bella figura vi lascio quindi link in descrizione di amazon dell'albero ci sono alberi di diversi tipi innevato da lunghezze appunto un 80 2 10 e così via colore verde e ho innevato come vi stavo appena dicendo e ovviamente il prezzo cambia magari prenotato in un attimo prima ci ha acquistato un attimo prima di natale per non rischiare di non trovarlo di pagarlo magari ad un prezzo un po più alto link in descrizione su sotto il video anche delle decorazioni delle stelle le stelle scusatemi i fiocchi di neve le palline e l'illuminazione come anche della stella puntale e del tappeto bianco qualora fosse interessato a comprare anche questi accessori che vedete li trovate su amazon se avete domande non esitate a pormele rispondo sempre a tutti la prossima review